Per secoli ci siamo nascosti sulla terra, ma l'oscurità ci ha trovati di nuovo. Prime, qui è in gioco il destino di tutti gli esseri viventi. Unicron sta arrivando. No, retromarcia. Oh, non eravamo soci. Hai portato un umano qui? Non sono nessuno e non ho visto niente, non vedo niente neanche ora. Non è la nostra guerra. Optimus, dobbiamo fidarci l'un l'altro per proteggere la casa che condividiamo. E quanto grande sarà male? Divorò pianeti, quindi molto più grande di un pianeta. Alla fine, tutto quello a cui tenete verrà divorato. Forse c'è un'altra maniera per salvare il nostro mondo. Non avete mai affrontato niente di simile. Lascia che vengano. Non avete mai affrontato niente di simile.